Buongiorno, ben trovati al TG2000, mafia capitale atto secondo. In apertura dunque la nuova raffica di arresti a Roma colpisce 44 personalità di spicco tra politici e amministratori capitolini e regionali finiti adesso in manette. Al centro del mirino degli inquirenti resta soprattutto il business redditizio legato alle strutture per accogliere i migranti. Tutti i dettagli con Cesare Cavoni. Vediamo. Sono passati sei mesi dall'arresto di Massimo Carminati e di altre 37 persone nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo che aveva cominciato a svelare gli interessi criminali e mafiosi che partivano da Roma. Oggi quell'inchiesta si arricchisce di un nuovo capitolo che colpisce il mondo politico vale a dire i referenti istituzionali di quel consesso criminale confermando scrivono gli inquirenti l'esistenza di una struttura mafiosa operante nella capitale una struttura che faceva da collegamento tra ambiti criminali ed esponenti degli ambienti politici amministrativi ed imprenditoriali locali. All'alba il blitz dei Carabinieri del Rosso nelle province di Roma Rieti, Frosinone, L'Aquila, Catania ed Enna 44 arresti per associazione per delinquere ed altri reati 21 gli indagati a piede libero nel mirino degli investigatori il business legato ai flussi migratori e alla gestione dei campi di accoglienza per migranti tra gli arrestati ci sono anche l'ex presidente del Consiglio Comunale di Roma Mirco Coratti e Luca Gramazio accusato di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata da Carminati che avrebbe favorito sfruttando la sua carica politica in manette anche l'ex assessore alla casa del Campidoglio Daniele Ozzimo e Angelo Scozzafava ex assessore comunale a Roma alle politiche sociali i militari del Rosso hanno arrestato anche i consiglieri comunali Giordano Tredicine Massimo Caprari e l'ex presidente del decimo municipio di Ostia Andrea Tassone ai domiciliani invece Stefano Venditti ex presidente della Lega Coop Lazio perquisizioni anche nella sede della cooperativa La Cascina nel quartiere Tor Vergata gli investigatori stanno approfondendo gli appalti per la gestione dei rifugiati nel cara di Mineo e in altre strutture affidati alla cooperativa vicina Comunione Liberazione Questa gente vede negli immigrati i numeri su cui lucrare ed affruttare è 50.000 volte peccato severa presa di posizione del segretario generale dei Vescovi italiani Monsignor Nunzio Galantino proprio pochi minuti fa poco prima della presentazione del rapporto Caritas a Milano allora ascoltiamo le parole di Monsignor Galantino eccole paradossalmente guardate quella è la negazione di quello che stiamo noi per dire qui noi stiamo dicendo che lì c'è gente con volti storie e dignità questa gente invece vede negli immigrati soltanto dei numeri sui quali lucrare povera gente da sfruttare numeri ripeto con i quali fare i propri comodi i propri stracomodi e questo evidentemente non è soltanto un peccato anzi la 50.000 volte è peccato perché si lucra sui poveri ma è anche un gesto di inciviltà perché prima di tutto inciviltà questa massima fermezza in questi casi assolutamente ma massima fermezza che non è soltanto un metterci contro qualcuno è soprattutto uno scegliere di metterci a fianco a delle storie vere a fianco a delle persone vere a fianco a dei desideri e dei sogni veri purtroppo sporcati dall'egoismo di nazioni purtroppo sporcato da gente che parla anche qui in Italia soltanto alla pancia soltanto alla pancia e allora andiamo subito adesso all'Expo di Milano oggi focus particolare lo anticipavamo proprio sulla condizione degli immigrati si chiama Migranti Attori di Sviluppo il ventiquattresimo rapporto sulla questione migratoria che in questi minuti sta presentando Caritas Italiana per saperne di più allora su ospiti e su temi andiamo dal nostro Luciano Piscaglia che vediamo già inquadrato buongiorno Luciano a te buongiorno come abbiamo sentito poc'anzi da Monsignor Galantino quanto sta emergendo dalle inchieste è la negazione di quanto la Chiesa Italiana viene oggi a proporre qui ad Expo in una giornata tra l'altro ricca di eventi di grande rilevanza ricordo solo il forum internazionale sull'agricoltura cui partecipano i delegati di 115 paesi di tutti i continenti ecco la Chiesa Italiana ha scelto Expo per presentare qui il ventiquattresimo rapporto nazionale di Caritas e Migrantes dedicato quest'anno agli impatti sociali ed economici dell'immigrazione in un contesto in cui il migrante, secondo quanto emerge dal rapporto divenne sempre più attore di sviluppo si passa dallo sfruttamento del lavoratore immigrato all'imprenditoria etnica in cui l'immigrato è protagonista del proprio lavoro la presentazione del rapporto è l'occasione per un'ampia riflessione in due parti la seconda è prevista nel pomeriggio sul contributo dell'immigrazione italiana all'alimentazione nel mondo una riflessione che la Chiesa Italiana offre oggi ad Expo e da Expo al paese e al mondo una riflessione cui, come abbiamo sentito, ha partecipato e sta partecipando Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI ma alla quale partecipano anche il Presidente di Caritas Italiana il Cardinale Francesco Montenegro e il Direttore della Caritas, Don Francesco Soddu e il Direttore di Migrantes, Monsignor Giancarlo Perego sui principali contenuti del rapporto Caritas-Migrantes sulle migrazioni abbiamo raccolto il contributo di Oliviero Forti responsabile del settore migrazione di Caritas Italiana al termine in linea torna allo studio di Roma Il rapporto conferma un trend in crescita dei migranti a livello globale e certamente anche a livello italiano anche se più contenuto rispetto al passato si sentono gli effetti della crisi però in questo rapporto che presentiamo all'Expo abbiamo voluto proprio enfatizzare il lavoro che fanno le Caritas sul territorio in particolar modo in collegamento con i temi della nutrizione e per questo abbiamo raccontato progetti come Presidio che lavora per lo sfruttamento, contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti in agricoltura, soprattutto nel meridione d'Italia o altri progetti come gli Orti Solidali che in qualche modo collegano questa presenza al tema dell'ambiente, della natura come anche occasione di sviluppo e di emancipazione per queste persone si tenta di creare occasioni per queste persone che vivono purtroppo la terra ancora in una dimensione di sfruttamento affinché possano trovare percorsi di integrazione attraverso l'impresa aumentano le imprese straniere nonostante la crisi questo è un dato incoraggiante e speriamo che continui con questo trend Allora, altro fronte caldo in questo giovedì mattina la cronaca italiana, la guerra alla mala a Napoli sventata una pericolosa faida a Scampia 40 le misure cautelari notificate nel corso di un'operazione congiunta di polizia e carabinieri di cui vediamo le immagini scattata all'alba di oggi nel capoluogo campano sugli arrestati le accuse di associazioni a delinquere di stampo mafioso traffico di stupefacenti detenzione porto abusivo di armi comuni e addirittura armi da guerra nonché tentato omicidio i finanzieri stanno eseguendo poi un decreto di sequestro di beni per 4 milioni di euro nei confronti di alcuni indagati l'inchiesta riguarda in particolare una vera e propria guerra fra clan nell'area nord di Napoli dove i gruppi contrapposti Vianella e Abete si davano battaglia per mantenere l'egemonia sul territorio torniamo adesso a parlare di migranti ma con un altro punto di vista quello di un ragazzino siriano di 12 anni e di una barista greca sono loro i protagonisti della storia che stiamo per raccontarvi il 12enne è appena arrivato sulle coste greche dalla Siria bagnato lo vedremo infreddolito e la barista dice vogliamo aiutarli ma anche noi abbiamo i nostri guai economici Antonio Soviero Abudul Samad ha 12 anni è un profugo siriano e appena sbarcato sull'isola greca di Lesbo con questo gommone è partito nella notte dalle coste turche dell'Anatolia dove lui e gli altri sono stati abbandonati dai trafficanti di esseri umani è molto dura per lui sta dicendo suo fratello Mohamed ha male ai piedi non abbiamo cibo siamo senza acqua senza bagni non ci sono letti non c'è nulla Abudul Samad e Mohamed si trovano nel centro di detenzione temporaneo costruito per accogliere 600 migranti ma ce ne sono almeno il doppio solo nell'ultima settimana 1500 profughi siriani sono sbarcati a Lesbo troppi per quest'isola gli abitanti cominciano ad essere preoccupati mi dispiace per queste persone cerchiamo di aiutarli ma abbiamo i nostri problemi questa non è una situazione favorevole per il nostro lavoro e per i turisti sostiene la titolare di questo bar il suo timore è che i tanti migranti per strada scoraggino i turisti a venire e a Lesbo si vive solo di turismo occupiamoci adesso proprio della disastrosa situazione delle finanze greche ancora nessuna intesa fra Tsipras e l'Europa domani scade la prima rata del Fondo Monetario Internazionale se Atene non restituisce i 300 milioni di euro la Grecia andrà ufficialmente in bancarotta mercati finanziari perciò molto nervosi questa mattina Giorgio Schiavoni non c'è ancora l'accordo fra la Grecia e le istituzioni creditrici sul piano di riforme di Atene la cena di ieri fra il presidente della Commissione Europea Juncker e il premier Greco Tsipras è stata definita un buon incontro dal presidente dell'Eurogruppo Disseblom e per il capo del governo ellenico un accordo è in vista ma nella sostanza dopo quattro mesi di tira e molla ancora non c'è un'intesa il vice ministro greco della Marina fa sapere che i termini dell'accordo proposto ad Atene e da Juncker non sono accettabili ancora grandi le distanze su riforme di pensioni e mercato del lavoro con il primo ministro greco che avrebbe dichiarato inaccettabile l'imposizione di misure recessive da parte dell'Europa solo sull'avanzo di bilancio che la Grecia dovrebbe realizzare nei prossimi anni le due parti si sono avvicinate i negoziati comunque proseguono e già domani ci dovrebbe essere un nuovo incontro fra Juncker e Tsipras ma sempre domani la Grecia deve rimborsare 300 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale se domani Atene non paga è ufficialmente in bancarotta per questo i mercati finanziari sono molto nervosi con titoli di Stato e spread fortemente penalizzati le borse europee tutte in negativo e Atene che perde quasi il 3% adesso la vicenda dell'autobus di turisti italiani che andavano alle cascate del Niagara un breve aggiornamento sulla situazione dei passeggeri travolti da un tir che ha ucciso tre nostri connazionali mentre sono in gravi condizioni i quattro feriti è stato identificato all'alba l'autista alla guida dell'autobus si tratta di Alfredo Telemaco un 54enne di New York l'uomo è morto sul colpo insieme ad altre due passeggeri la cui identità però non è ancora nota la parte frontale del pullman lo vedete ridotta un groviglio di lamiere fra le quali erano incastrati anche alcuni feriti a provocare la tragedia secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il lungo auto articolato che avrebbe improvvisamente tagliato il tragitto dell'autobus e ora in Cina con la sciagura legata al naufragio di una nave da crociera sul fiume Yangtze col passare delle ore si fanno sempre più flebili le speranze di trovare altri sopravvissuti recuperati invece altri 39 corpi di vittime sale così a 65 il numero dei morti accertati lo rende noto questa mattina la televisione di Stato 370 i dispersi decine i parenti straziati che non hanno ancora notizie sui loro cari soltanto in 14 dunque sono stati tratti in salvo stamattina i soccorritori che stanno operando sotto una pioggia battente hanno iniziato a perforare il fondo della nave chiamata Stella d'Oriente per entrare all'interno e dunque rendersi conto della situazione che c'è perché si erano sentiti anche colpi e grida provenire proprio dalla plancia lo vedete dell'imbarcazione la politica con l'addio al Senato di un altro pezzetto di maggioranza lasciano i due senatori popolari di Mario Mauro ma oggi è il giorno in cui Matteo Renzi partecipa a Fiumicino alla presentazione del nuovo marchio Alitalia la compagnia annuncia l'assunzione definitiva per 310 dipendenti Pierluigi Vito Solo nove voti in più sono quelli su cui era può contare a Palazzo Madama la maggioranza di governo questo con l'uscita di due senatori dei popolari di Mario Mauro il che mette a rischio per l'esecutivo anche in forza dei malumori della minoranza PD l'approvazione dell'IDL sulla buona scuola e della riforma costituzionale in Senato Siamo usciti dalla maggioranza perché non ci convincono più le riforme proposte dal governo Renzi o meglio il modo in cui sono condotte provvedimenti fatti in fretta fatti male che creeranno problemi all'Italia inconsistenti dal punto di vista dell'incidenza sull'economia pericolosi per la democrazia e per la libertà Renzi nei prossimi giorni almeno fino a lunedì quando si riunirà la direzione del partito dovrebbe cercare la strada della mediazione ma stamattina la presentazione della nuova livrea all'Italia ha ribadito che la marcia delle riforme non si ferma piaccia o non piaccia ci sono le polemiche fuori tutti i giorni ci dicono ah dovete fermarvi e rallentare noi stiamo rimettendo il paese a correre come deve correre perché l'Italia ha bisogno di non fermarsi e di recuperare gli anni che ha perso intanto per i lavoratori della compagnia aerea giungono buone notizie sul versante occupazione 310 persone verranno riassunte parte dai dipendenti in mobilità e parte dal bacino dei tempi determinati sul fronte economico stamattina arriva una buona notizia l'economia italiana va meglio delle attese la conferma arriva dal centro studi di Confindustria che aggiunge è indispensabile proseguire sulla strada delle riforme per aumentare occupazione e reddito degli italiani l'associazione degli industriali spiega che l'accelerazione già dalla primavera è nei cambi nei tassi sul petrolio e nel resto dell'eurozona confermata da tutti gli indicatori disponibili ciò aiuta la fiducia e dunque consolida il miglioramento prosegue Confindustria che infine manifesta maggiori preoccupazioni proprio sulle ripercussioni che rappresenterebbe anche per l'Italia un eventuale default della Grecia ne risentirebbe la fiducia delle famiglie italiane spiegano appunto gli industriali bene è tutto vi ricordo questa sera alle 19 al termine dell'edizione serale del nostro telegiornale la diretta per la messa del Corpus Domini presieduta da Papa Francesco grazie per averci seguiti state con noi e arrivederci grazie per averci seguiti